Al-Brigi Beer Abbiamo oggi la possibilità di allestire un moderno micro birrificio fornendoti consigli, attrezzature e formazione per diventare in breve tempo un provetto mastro birraio e poter soddisfare anche i palati più esigenti. Tutto questo con un piccolo investimento, poco spazio e un po' del tuo tempo. Al-Brigi Beer sarà al tuo fianco a partire dalla scelta dell'impianto fino alla messa in funzione, garantendoti la sua disponibilità in ogni momento. Un modo unico ed esclusivo per creare la tua birra. Al-Brigi Beer, per essere unico come la tua birra.